Da lunedì 18 gennaio al via la somministrazione delle prime 5.300 dosi di vaccino messo a punto dall'azienda farmaceutica americana Moderna, arrivate in Toscana lo scorso 13 gennaio. I primi ad essere vaccinati con il siero di Moderna saranno gli operatori dei servizi di emergenza e urgenza e i volontari impegnati nei trasporti sanitari. Ad Arezzo la somministrazione avverrà nella struttura mobile allestita all'esterno del pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo. I destinatari potenziali sono 2.140, 773. Ad Arezzo di questi 390 saranno vaccinati dalla prossima settimana. Ampliamo la nostra capacità vaccinale, ha detto l'assessore alla sanità della regione toscana Simone Bezzini, utilizzando i vaccini di Moderna. Questo significa viaggiare a doppia velocità perché ci consente di portare avanti in contemporanea le vaccinazioni nelle strutture ospedaliere secondo il calendario vaccinale come da agenda già prenotata e in più aumenteremo il numero di medici ed infermieri che possano eseguire il vaccino. Dall'inizio della campagna vaccinale sono state somministrate in tutto nella regione toscana 63.185 dosi di vaccino.